ciao ragazzi sono qua per dirvi che domenica 24 settembre sarò a roma villa borghese alla terrazza del pincio per partecipare alla fit walking for aile che cos'è una passeggiata all'insegna dell'attività fisica naturalmente soprattutto della solidarietà tutti i soldi raccolti infatti saranno devoluti all'associazione contro le leucemie perciò iscrivetevi numerosi su www.ail.it e ci vediamo il 24 settembre domenica alle 9 alla terrazza del pincio non mancate saremo uniti verso nuovi traguardi